L'Internet Banking di BNL consente di effettuare una vasta gamma di operazioni bancarie e di investimento in maniera facile e veloce, comodamente da casa con il proprio PC. Con l'Internet Banking di BNL è possibile acquistare i Certificates BNP Paribas, anche online, oltre che presso le filiali BNL. Alcuni Certificates BNP Paribas possono essere sottoscritti in esclusiva via web. I Certificates BNP Paribas sono prodotti di investimento studiati per rispondere alle diverse esigenze della clientela in differenti condizioni di mercato. Sono strumenti particolarmente flessibili, che possono offrire numerosi vantaggi, come la protezione condizionata del capitale, un orizzonte temporale di investimento di breve e medio termine e la possibilità di diversificare il proprio portafoglio sia dal punto di vista geografico che settoriale. I Certificates sono inoltre quotati su Borsa Italiana o sull'Euro TLX, a garanzia di liquidità, trasparenza dei prezzi e negoziabilità. Utilizzare l'Internet Banking di BNL è molto semplice. Collegati al sito www.bnl.it e visita la pagina dedicata ai Certificates BNP Paribas, che mostra la gamma di prodotti attualmente in sottoscrizione. Per ognuno di essi è disponibile una brochure che spiega le caratteristiche principali del prodotto. Una volta individuato il Certificates che meglio risponde alle tue esigenze, basterà cliccare sul link Accedi all'area clienti per collegarsi alla piattaforma di Internet Banking. I Certificates sottoscrivibili online si trovano sotto il menu Trading, Comprare e Vendere e Sottoscrizione Certificates. Da qui è possibile visualizzare le principali informazioni, come il codice titolo, ovvero il codice BNL del Certificate, la descrizione del titolo, il periodo di offerta, il lotto minimo e il prezzo. In più, cliccando sulla lente di ingrandimento, si possono visualizzare ulteriori informazioni sul prodotto. In ogni caso, prima dell'operazione di investimento, ricordiamo di leggere attentamente il prospetto con i relativi supplementi, la nota di sintesi e le condizioni definitive, e in particolare le sezioni dedicate ai fattori di rischio, ai costi e al trattamento fiscale dell'investimento. Tutta la documentazione è disponibile nell'area di Internet Banking del sito bnl.it e sul sito prodottidiborsa.com. Per procedere all'acquisto, inserire il numero di Certificate che si intende sottoscrivere e cliccare il pulsante Ordina. Apparirà in seguito una schermata riepilogativa che ti permetterà di verificare tutte le informazioni, compilare il modulo di sottoscrizione online e confermare l'ordine. Sul sito www.prodottidiborsa.com, nell'apposita sezione BNL, è possibile visualizzare i certificati attualmente in sottoscrizione. Se sei interessato ad uno in particolare, puoi accedere in ogni momento alla brochure dedicata. Basta ricercarlo inserendo il codice BNL o il codice ISIN nell'apposita casella di ricerca prodotti. Nella pagina compariranno le caratteristiche del Certificate, il grafico con l'andamento dei prezzi e la documentazione disponibile. Un mese di borsa è il magazine mensile che consente di comprendere al meglio il contesto finanziario nel quale si muovono i Certificate BNP Paribas e di essere sempre aggiornati sui principali temi macroeconomici. Cosa aspetti? Inizia subito a sfruttare tutte le potenzialità offerte dall'Internet Banking di BNL.